I sindaci e le regioni abbiano il più presto possibile degli interlocutori, augurandomi per quanto riguarda la Puglia che siano migliori di quelli del passato. Io ho avuto degli interlocutori assolutamente sordi alle esigenze della Puglia nei vecchi governi, spero che in un eventuale nuovo governo ci sia una maggiore attenzione e un maggiore approccio scientifico alle decisioni politiche, al di là di tutte le chiacchie. Ovviamente tutto ciò che fa Calenda a me mi fa ridere, quindi non lo voglio neanche commentare. Spero che prima o poi si tolga dai piedi dal Partito Democratico, ma vedo che il PD nella sua trasformazione genetica si sta appassionando persino di un tipo come Calenda, quindi non posso che ridere di questa storia.